Siamo qui con una vecchia gloria del Mazzara, Totò Di Fresco, che è saluto. Grazie per l'applauso a Totò, e al quale porgo la sciarpa del Mazzara. Totò che ha giocato in questi colori tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Totò, un legame particolare con questi colori. Io sono veramente legato alla città di Mazzara, dove ho passato gli anni più belli e la meraviglia necessariamente parlando. Grazie Totò, un applauso per Totò. E approfittiamo di questo momento anche per presentare la prima maglia del Mazzara Calcio per la stagione sportiva 2021-2022. Abbiamo al nostro fianco Simone Guayana, l'attaccante. Vedete la maglia gialla con tutti i nostri sponsor che ringraziamo. Un applauso per Simone e per la maglia. Simone, girati perché la maglia è veramente piena di sponsor. Quest'anno sono in tanti a sostenerci e a supportarci. Come potete vedere, il giallo e il blu sono il colore simbolo di questa città, il colore del calcio in città, la storia del calcio in città. Il DNA giallo-blu è il flame che ci accompagnerà durante la stagione. Grazie a tutti e vi auguro di assistere a una bella partita. Un cordiale saluto dallo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, da Matteo Licata e la cortese collaborazione di Vincenzo Pipitone per la seconda giornata del campionato di eccellenza Girone A tra Mazzara e Canicattì. Procediamo alla lettura delle formazioni per il Canicattì, la formazione ospite, con il numero 1 Arusha, con il numero 2 Caternicchia, con il numero 3 Tedesco che sarà anche capitano, numero 4 Privitera, numero 5 Raimondi, numero 6 Pettinato, numero 7 Iraci, numero 8 Caronia, numero 9 Gueye, numero 10 Azzara, numero 11 Morana. In panchina col 12 Guddo, con il 13 Toledo, col 14 Semprevivo, con il 15 Biondo, 16 Scopelliti, 17 Gradito, 18 Malluzzo, 19 Tripoli, 20 Iezzi. Iezzi, l'allenatore, il signor Bonfatto Calogero. Per il Mazzara, la formazione di casa, con il numero 1 Pizzolato, col 2 Genesio che sarà il capitano, il 3 Zerillo, il 4 Ferraù, il 5 Lombardo, il 6 Rallo, il 7 Bulades, il 20 Bajé, col 15 Daidolar, col 10 Elam Raui, con l'11 Diop. In panchina, con il 12 Giordano, col 13 Clepo, col 14 Cicala, col 9 Guayana, col 16 Abdeluaed, col 17 Bonanno, il 18 Melia, il 19 Pulizzi, 8 Abbate. L'allenatore è il signor Dino Marino. Il direttore di gara è il signor Tommaso Alberto Vazzano della sezione di Catania. Il primo assistente è Salvatore Girolamo Cucci di Trapani, assistente 2 è Gianfranco D'Amico della sezione di Trapani. Partita molto sentita perché per il Mazzara è la prima partita dopo l'esplosione del Covid-19 con il pubblico, anche se per via della zona gialla la capienza è del 25%, con ovvio obbligo del Green Pass per potervi accedere. Giornata oggi molto caldo a Mazzara del Vallo. Siamo sopra i 30 gradi centigradi, una temperatura quasi fuori stagione, molto molto alta. Le formazioni non sono molto abituate a giocare con queste temperature. Ricordiamo che Canicatti viene dal 3 a 0 a tavolino in casa con il dolce onorio Marsala, mentre invece il Mazzara viene dalla vittoria in trasferta col Don Carlo Misilmeri per 2 a 0 con i gol di Elam Raui e di Baget direttamente da calcio d'angolo. Con questo gol Baget si è meritato il soprannome di Palancanero. Vediamo intanto che sta entrando la formazione rosso-bianca del Canicatti e questo è boato per l'entrata della formazione del Mazzara con la classica divisa gialla e blu. Partita molto sentita nel mini torneo che c'è stato nella seconda parte di stagione Mazzara-Cannicattifini col risultato di 2 a 0 per la formazione di casa. Entrambe le formazioni arrivarono poi ai play-off ma non andarono oltre. La vittoria del campionato la scorsa stagione è stata da pannaggio della San Cataldese. Intanto il consueto lancio della monetina con i due capitani che sono Genesio e Tedesco. Partita molto particolare. Consideriamo poi che il Mazzara ha una media d'età tra i titolari di circa 25 anni. Una delle più basse del campionato. Intanto saluto al pubblico. È molto bello riascoltare l'applauso del pubblico. Ci mancava veramente tanto. Già i primi giocatori cominciano a dissetarsi. Ricordiamo la temperatura è attorno ai 33 gradi centigradi. E' tutto pronto qui al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Manca solo il fischio del direttore di gara. Momento di tensione prima della partita. La prima in casa per il Mazzara. Ci siamo quasi. Fischietto alla bocca. Un po' di enfasi prima dell'inizio di questa giornata di campionato. Vediamo il direttore di gara che chiede agli atleti se sono già pronti per partire. Ultime raccomandazioni. Si parte. È iniziata la seconda giornata di campionato. Con Ferraù che cerca subito di contrastare un giocatore del Canicattì. Poi Rallo. Si affida a Bulades. Spazza Zerillo. Vediamo. C'è colpo di testa di un difensore del Canicattì. Era Raimondi. Calcio di punizione in favore del Canicattì. Battuta in questo momento. È da ribattere. Quindi aveva battuto Santo Privitera. Il fallo era stato commesso proprio da Daidola. Daidola che è originario del Piemonte. Ha esordito nella partita contro Don Carlo di Misilmeri. Nella quale si è pure guadagnato una munizione dopo un minuto. Battuta il calcio di punizione da Privitera. Il Canicattì cerca di attaccare dalla fascia sinistra ancora. E poi c'è l'intervento di Genesio. Un po' lungo il passaggio per Bulades che non arriva. La rimessa laterale è per Caternicchia. Classe 99. Battuta la rimessa. C'è Bulades di testa che cerca di allontanare. Rimessa laterale in zona di attacco guadagnata dai Canarini. Pallone allontanato in maniera poco sportiva. La battuta rimessa laterale è affidata a Zerillo. Zerillo batte. Ferraù. Ancora Zerillo. Il cross. A cercare subito. Baje in questo momento che però non riesce a tenere pallone. Attenzione allora al possibile contropiede del Canicattì. Ci provano con Gueye. Gueye. Ancora lui a cercare una sovrapposizione di tedesco. Ma c'è l'intervento di Rallo. Corner per il Canicattì. Primo corner della partita per la formazione proveniente dalla provincia di Aguigento. Le due formazioni si stanno studiando. Entrambe le formazioni puntano sicuramente ai playoff. Intanto direttamente in porta. Pizzolato non si fa trovare impreparato. Poi allontana Genesio. Rimessa laterale in favore ancora del Canicattì. Batte la rimessa Caternicchia. Attende il movimento dei compagni. Benedetto Iraci. Ancora lui. Cerca di resistere ma c'è Ferraù. Che spazza. Allora interviene Pettinato. Ancora il Canicattì che spazza con tedesco. E poi Genesio. Tiene pallone in campo. No. Rimessa laterale per il Canicattì. Se non ricordo male. Se la memoria non mi inganna. Arusha la scorsa stagione. Era con la San Cataldese. Quindi è un campione in carica. In un certo senso. Vediamo ancora che Canicattì con un cross. Cerca di attaccare. Rallo allontana. Poi cerca di prolungare Elamraui. Arriva di testa anche Caternicchia. Allora difende il pallone Privitera. Cercano subito di aprire per Azzara. Ma spazza Genesio. Rimessa laterale per il Canicattì. Il Canicattì non ha timore reverenziale. Cerca subito di attaccare. Battuta rimessa laterale. Azzara. Il cross. Ancora per i raci. Non va. Interviene Pizzolato. Pizzolato coi piedi. E molto abile coi piedi. Il portiere originario di Paceco. La scorsa stagione era a Brindisi. Intanto subisce fallo Sami Elamraui. Scorsa stagione alla Folgore. Dolce Onorio Folgore. Vediamo. Batterà lui calci punizione. L'esperto esterno offensivo. Momento di attesa quando siamo nel corso del quinto del primo tempo. Si schierano. Tutte e due le formazioni in attesa di questo calcio di punizione. Batte l'Amraui. Non arriva Mudu di testa. Mudu Baje. Spazza Privitera. Allora c'è un cross i Bulades troppo lungo per Daidola. E Arusha controlla senza grossi problemi. Arusha che è di nazionalità albanese. Caternicchia. Attenzione che c'è un lancio lungo però fuori misura. Deviato. E quindi la rimessa è per il Canicattì. Già battuto da Privitera. Verso Benny Raci che cerca un tiro. Ma è stato anticipato da un buon zerillo. I Raci è un fuoriclasse della categoria. Molto esperto. La scorsa stagione ha giocato con Mazzara. Aveva iniziato con Mazzara in Coppa. Fuori gioco non segnalato dal direttore di gara e spazza Lombardo. Zerillo si era fermato pensando che c'era la bandierina. I Raci comunque la scorsa stagione aveva iniziato la stagione proprio col Mazzara. Poi passò al Giarre. Nella sessione invernale passò prima al Dattilo e poi tornò di nuovo a Giarre. Siamo andati vicini a un record per il cambio di casacchi in una singola stagione. battuto intanto. No, è da ribattere il corner per il Canicattì. Pronto a battere ci sarà Santo Privitera. Momento di attesa. Si cerca anche di guadagnare forse un po' di tempo. è pronto comunque, Privitera, sono tutti schierati. C'è un po' anche di mischia, di mucchio selvaggio. Siamo ancora in attesa. batte Privitera. Allontana Baje, un campanile più che altro, e poi Pizzolato. Vediamo Pizzolato che vorrebbe accelerare ma ha subito un'interruzione da parte di un giocatore del Canicattì. Poi con i piedi a cercare Boulades, non ci arriva però da idola. Vediamo allora che Pettinato cerca di impostare l'azione, ora con un lancio lungo per Guayet. Rallo si affida al suo portiere Giorgio Pizzolato, che però non trova Elam Raui. Risultato ancora ancorato sul pareggio a reti bianche. quando siamo all'ottavo del primo tempo. Zerillo spazza, anticipando i raci. C'è rimessa laterale che sarà affidata al solito Caternicchia. Ancora Caternicchia con un pallone di ritorno. I raci, ma c'è l'intervento di faccia di Zerillo. Caternicchia batte la rimessa. Ancora con Santo Privitera. Non riesce a tenere pallone in campo di Hop. Batte Privitera per Caternicchia, ma c'è l'intervento di mestiere di Romito Paolo Boulades. Quindi rimessa dal fondo in favore della formazione Canarina. Pizzolato si affida ai piedi di Lombardo. Ancora Pizzolato. Pizzolato cerca con i piedi un bel passaggio per Zerillo. Diop. Diop che non riesce a tenere pallone. Allora I raci, che cerca subito Morana, che è un altro ex scorsa stagione a Mazzara. Rimessa laterale in zona di attacco ancora per la formazione Ospite. Batte Santo Privitera. Verso Morana c'è l'intervento di Zerillo. Anche lui con mestiere, nonostante sia uno juniores. E' pronto Giorgio Pizzolato per la rimessa dal fondo. Canicati sta attaccando di più rispetto a Mazzara. Mazzara più che altro sta mettendo alla prova i suoi avversari. Rallo rischia un po' troppo, attenzione! Però riesce a dare pallone a Zerillo. Poi c'è l'intervento subito di Canicati verso i raci, ma copre bene Rallo. Troppi rischi però per la formazione Mazzarese. Pizzolato. Cerca e trova Genesio. Tocco dei torno per Baget. Vediamo Ferraù. Ancora Genesio. Cross. Ma c'è l'intervento di Caternicchia. Allora subito per Caronia Vittorio, che scambia con i compagni. Ancora Santo Privitera, che di fatto è regista. Vediamo ancora il Canicati. Buona l'azione. Attenzione, ancora il Canicati. Cross basso, pizzolato. E poi viene anticipato Morana. C'era posizione di offside. Calcio di punizione per il Mazzara. Ma stiamo vedendo un frizzantissimo Canicati. Tanto mancano palloni nelle vicinanze. E pizzolato se lo deve andare di fatto a raccogliere. Sicuramente ci sarà un discreto recupero già nel primo tempo. Siamo nel corso dell'undicesimo del primo tempo. Il risultato è ancora ancorato sullo 0 a 0. Vediamo. Pizzolato batte il calcio di punizione. C'è l'intervento di Privitera di testa. L'ultimo uomo è Lombardo, che spazza. Daidola viene anticipato da Raimondi. E c'è rimessa laterale per il Mazzara. Zerillo. Rallo. Ferraù. Lombardo. Lombardo lancio lungo. Non trova nessun compagno, però. Allora il Canicati ha tutto il tempo di poter reimpostare l'azione. Ancora il Canicati. Lancio lungo a cercare Guayet. C'è rimessa laterale però per il Mazzara. Genesio. Bajé. Elamraoui. Ancora lui. Buona finta di corpo. E poi guadagna calcio di punizione. Sami Elamraoui. Sami Elamraoui è un classe 87. Quindi uno dei giocatori più esperti del Mazzara. Il Mazzara ha fatto questa stagione una scelta abbastanza coraggiosa. Quella di giocare con atleti molto giovani. Anche se alcuni di esperienza come ad esempio lo stesso Bulades. Che viene cercato in questo momento ma c'è una buona uscita di Arusha. Dicevamo che il Mazzara ha cercato una politica più giovanile. Che nella partita contro il Don Carlo Misinmeri ha pagato abbastanza bene. Daidola non riesce a gestire il pallone. Forse il passaggio era troppo forte. Privitera. Caternicchia. Anticipato da Diop. Rimessa laterale però è per il Canicattì. Batterà la rimessa laterale Caternicchia. Battuta da Caternicchia. Zerillo di testa. Poi c'è Guayet. Cerca di aprire per Azzara. Azzara che deve scontrarsi con Genesio. Molto esperto. Il capitano. E c'è fallo subito da Genesio. Fallo è stato proprio di Azzara. Genesio, Sami e Lombardo sono i tre più esperti della squadra. Genesio capitano inamovibile. E Lombardo per la sua permanenza al Mazzara è vice capitano. Pronto a battere pizzolato. Arrivato praticamente sul gong prima della partita contro il Don Carlo Misinmeri. Protagonista anche di un'ottima prestazione. Intanto Bulades subisce un duro fallo da Caternicchia. Calcio di punizione per i Canarini. E sentiamo il pubblico anche rumoreggiare un poco. Forse pensavano fosse giusto un cartellino giallo per Caternicchia. È stato comunque redarguito dal direttore di gara. Vediamo chi batterà questo calcio di punizione. Potrebbero sfruttare delle torri, tipo lo stesso Lombardo o anche lo stesso Giovanni D'Aidola. La torre piemontese potrebbe anche decidere di inserirsi di testa. È pronto Sami e Lamraoui. Batte in questo momento. Vediamo, non arriva nessuno. Forse è un po' lungo il calcio e punizione. L'ultimo giocatore era Rallo, ma non aveva possibilità di colpire la sfera. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Una partita che sta abbassando un po' i ritmi. In virtù anche del terribile caldo. Non potete vedere la situazione, ma nella cabina di commento siamo tutti abbastanza sudati. Arrush intanto batte la rimessa dal fondo. Gueye ha cercato a Zara, però c'è stato un buon intervento di Baje. Che ha compiuto un gol alla palanca, praticamente, contro il Don Carlo Misimeri al 92esimo, direttamente da calcio d'angolo. Un gol che ha fatto il giro della Sicilia. Intanto Gueye di testa cerca di anticipare Genesio, ma è fallo. Calcio e punizione per la formazione giallo-blu. Pronto a battere calcio e punizione il capitano Canarino. No, si allontana. Batterà il portiere Giorgio Pizzolato. Pizzolato fu anche uno dei portieri, andando un po' indietro nella storia, del Paceco che militò nel campionato di Serie D alcune stagioni fa. Intanto c'è un fallo, direi fuori gioco. Calcio e punizione per il Canicattì. Battuto ora da Santo Privitera. Interviene Genesio. Sami. Attenzione però perché il Canicattì sta attaccando. Ora con Gueye. Gueye cerca un dribbling. Ancora lui. Si sovrappone Tedesco. E corner per il Canicattì. C'è stato l'intervento di Genesio che scuote i suoi. Non è soddisfatto Valerio Genesio della condotta dei suoi compagni in questo momento. Pronto il Canicattì a battere il corner. Battuto in questo momento. C'è il colpo di testa di Diop. Ma c'è stata anche una deviazione di Gueye. E c'è rimessa dal fondo. Intanto c'è anche qualche scaramuccia proprio tra Gueye e Pizzolato. E anche i raci comincia a infervorarsi. Il direttore di gara cerca di richiamarlo. E il pubblico rumoreggia. Non lo sentivamo da un po' di tempo. Batte Giorgio Pizzolato. Cerca subito Genesio. Però palla imprecisa. Nulla di fatto. Rimessa laterale per il Canicattì. Pronto a battere il Canicattì già fatto. Ma c'è l'intervento immediato di Bage. Altra rimessa laterale in zona di attacco per il Canicattì. Anche Romito Paolo Bulades era nella stessa squadra con Pizzolato. Quindi la vecchia polisportiva Paceco in serie D. In quel Paceco c'era anche un certo Pietro Terranova che adesso è in serie C col Picerno. Ancora il Canicattì che cerca subito un cross fuori misura. Ma è corner. Corner per la formazione bianco-rossa. battuto già il corner. Azzara un cross. C'è l'intervento di Gueye. Fallo sul portiere. Scontro tra Gueye e Pizzolato. Pizzolato è rimasto a terra e Gueye pure. Intervengono subito i sanitari di entrambe le società. momento quindi anche di riposo vista la temperatura. Pizzolato sembra essere messo un po' meglio rispetto a Gueye che è rimasto a terra, anzi ora ha alzato il capo. si rialza a Pizzolato. è rimasto fermo per terra Abdu Gueye Gueye che è un classe 97 si è rialzato Gueye c'è ancora un sanitario del Mazzara con Pizzolato che ora sta uscendo dal rettangolo di gioco è pronto per il calcio di punizione Giorgio Pizzolato Romito Paolo Bulades la scorsa stagione aveva iniziato col Marsala e poi la seconda parte di stagione con l'Akagas con la quale ha perso la finale per la vittoria del campionato finita 3-0 per la San Cataldese quindi Bulades in un certo senso è un vice campione del campionato uscente pronto intanto a batta rimessa laterale Caternicchia Iraci però Rallo raccoglie Ferraù la giocata di Diop che riesce a conquistare il pallone ai danni di Iraci Lombardo cerca di aprire per Genesio troppo impreciso però e c'è comunque rimessa laterale in favore del Mazzara sul colpo di testa di Giuseppe Tedesco il capitano è pronto a battere la rimessa laterale Valerio Genesio Genesio giovanili del Palermo Genesio ha fatto anche parte di qualche spedizione europea con la divisa del Palermo poi un lungo girovagare per lui fino ad arrivare a Marsala e ormai da diverse stagioni è un giocatore del Mazzara calcio e punizione intanto in favore della formazione canarina dovrebbe essere pronto a battere Sami e Lamraui di origine palermitana anche lui si allontana anche Valerio Genesio probabilmente opteranno per un cross quando siamo nel corso del ventitresimo del primo tempo è Lamraui battuto direttamente in porta di poco non inquadra lo specchio della porta Ruscia ha rischiato comunque era presente sul palo probabilmente l'avebbe presa ma che rischio e Sami dimostra che con i piedi ci sa veramente fare rimessa dal fondo intanto per la formazione originaria della provincia di Canicati di Aguigento scusate Batta Ruscia di testa Diop rimessa laterale però ancora per il Canicati Canicati nella storia risulta anche un campionato di Serie C quindi possiamo dire che anche se per poco il Canicati ha visto nella storia il professionismo cosa che purtroppo Al Mazzara non è mai riuscito nonostante sia una piazza importante intanto c'è stato un duro fallo su Guayet calcio di punizione per il Canicati da una posizione importante c'è giallo per Rallo primo cartellino giallo per Angelo Rallo che era già stato ammonito pure con il Don Carlo Misilmeri annotato sul taccuino da parte del direttore di gara e ora vedremo chi batterà il calcio di punizione abbiamo ben tre giocatori Privitera, Iraci e Azara si allontanano Iraci e Azara rimane Santo Privitera quindi opteranno per un cross sono schierate formazione barriera a due per il Mazzara sono Sami e Zerillo batte Privitera attenzione verso Iraci che viene anticipato da Genesio la rimessa laterale è per il Canicati il Mazzara sta giocando in contropiede Canicati attacca ma quelle poche volte che il Mazzara riesce a impostare un contropiede diventa anch'esso pericoloso attenzione il pallone rimane lì Ferraù di testa poi Diop non trova Bulades allora subito il numero 6 pettinato che ha cercato Guayet rimessa laterale per il Canicati pronto a battere Privitera battuta in questo momento a cercare a Azara un tiro al volo fila Z rimessa dal fondo per il Mazzara batte la rimessa dal fondo il solito pizzolato intanto due palloni in campo quindi si attende l'allontanamento di un pallone c'è anche Lombardo sul pallone decide pizzolato di toccarla per Lombardo Lombardo lancio lungo cerca Bulades che guadagna comunque rimessa laterale è pronto a battere Capitan Genesio uno dei migliori giocatori in campo contro Don Carlo Misilmeri Valerio Genesio Baje Bulades Daidola subisce un colpo al capo fischia il direttore di gara e atterra Giovanni Daidola che si rialza non viene sventolato alcun cartellino comunque calcio di punizione per il Mazzara pronto Samy e Lamraoui no si allontana Samy stavolta quindi è pronto Ferraou si batterà Ferraou anche lui nel paceco in serie D con Bulades e Pizzolato fece però mezza stagione Ferraou attenzione Rallo anticipato incredibilmente da pettinato ancora il pallone lì e Lamraoui ancora lui difende il pallone cerca un cross vediamo Lamraoui Baje Baje bello dribbling e guadagna calcio di punizione Santo Privitera ha compiuto il fallo non vediamo provvedimenti da parte del direttore di gara no semplice fallo nessun cartellino oddio ci poteva stare anche la valutazione di fallo tattico il direttore di gara non l'ha pensata così semplice fallo comunque calcio di punizione del Mazzara in una posizione anche ghiotta potrebbe battere uno tra Lamraoui e Ferraou Ferraou scorsa stagione era l'Igea Virtus quindi nell'eccellenza girone B forse faranno una finta si allontana Ferraou allora Sami attenzione Rallo di testa non trova lo specchio della porta siamo nel corso del ventinovesimo del primo tempo Arrusha batte subito la rimessa dal fondo Caternicchia Raimondi poi Raci che cerca di difendere il pallone da Diop guadagna rimessa laterale vediamo ancora Diop che ha aperto un duro scontro con Benedetto Iraci c'è calcio di punizione per il Canicatti fallo è stato proprio di Diop calcio di punizione battuta a Privitero anticipato a Zara da Valerio Genesio rimessa la tre in zona di attacco per il Canicatti due formazioni che sulla carta puntano entrambe ai playoff quindi in un certo senso possiamo considerarlo un big match vediamo corner per il Canicatti batterà il solito Privitera Privitera batte pizzolato coi pugni vediamo cerca di andarsene l'Amrawi ma viene coperto da Zara e poi c'è l'intervento di Bulades la rimessa laterale è comunque del del Canicatti intanto ci segnalano Schacca Enna 0 a 1 gol di Graziano Marineo Rama 1 a 0 Castellammare Favara 2 a 0 Nisacragas 0 a 1 vediamo intanto il Canicatti ancora che cerca di attaccare ora con a Zara c'è l'intervento di Genesio guadagna anche rimessa laterale ottimo vediamo Ferraù cerca di aprire per Romito Bulades che sbaglia lo stop rimessa laterale per il Canicatti Bulades in questo momento è stato leggermente sotto tono ha fatto una partita di sacrificio pizzolato senza problemi con Guayet Valerio Genesio a campo aperto non trova Elam Raoui lo prende in controtempo a Zara a Zara cerca subito un passaggio per il compagno tedesco il cross era quasi un tiro a incrociare non trova lo specchio della porta ma è corner per il Canicatti c'è stata allora una deviazione Casteltermini in vantaggio contro il Cus Palermo ci segnalano Sciacca pareggia con Lenna 1-1 Fischia direttore di gara visto qualcosa di irregolare nella mischia calcio d'angolo quindi da ripetere per il Canicatti sempre col solito Privitera batte in questo momento corto c'è Bulades che riesce a intervenire Sami ancora Bulades che non riesce a stoppare il pallone poi Raci fuori gioco fuori gioco di Benny Raci anche se c'è stato un intervento duro di Pizzolato calcio e punizione quindi per il Mazzara pronto ancora Giorgio Pizzolato Pizzolato lungo cerca Sami che però viene fermato Benedetto i Raci intervento di Diop Zerillo ancora Diop buona giocata di Diop che subisce fallo e c'è giallo per Morana ammonito Pietro Morana uno degli ex come per l'appunto anche lo stesso Raci un ex pronto a batte i calci di punizione Ferraù giovanili del Catania e del Torino per lui pronto Ferraù batte in questo momento a cercare l'Amraui anticipato allora però c'è Genesio è l'Amraui cerca un tacco ma viene fermato allora attenzione c'è Lombardo rischia un po' ma riesce ad allontanare la sfera rimessa laterale è per il Mazzara già battuto c'è un'altra rimessa laterale per il Mazzara ora il ritmo comincia ad aumentare è pronto Genesio è l'Amraui è ancora lui non trova Genesio non si capiscono più che altro allora Zara cerca il Guayem c'è Lombardo Lombardo rischia gioco pericoloso calcio di punizione quindi per il Canicatti batte Privitera ma la posizione è errata siamo intanto nel corso del 35esimo del primo tempo Guayem apre per Zerillo Zerillo cerca di andarsene rimessa laterale è del Mazzara dovrebbe essere del Mazzara ed è così batte la rimessa laterale Zerillo calcio Sicilia per lui cambio di rimessa battuta in maniera scorretta e quindi la rimessa è del Canicatti e sono screzita Privitera e Ferraù attenzione perché si stanno accendendo gli animi e il direttore di gara richiama Santo Privitera e ora è chiaro le due formazioni non molleranno di un centimetro mi sa che da adesso sarà guerra aperta tra le due formazioni batte la rimessa laterale Privitera diop di testa la rimessa laterale è ancora però del Canicatti la rimessa laterale probabilmente sarà ancora affidata a Santo Privitera vediamo che Privitera con un po' anche di mestiere prende un po' di tempo pronto ora Santo Privitera battuta in questo momento la rimessa laterale a Zara ma c'è intervento di Genesio Genesio non trova Daidola allora Privitera difende palla fallo però di Romito Bulades e anche Daidola ha qualcosa da dire a Privitera calcio di punizia che sarà battuto di nuovo dal numero 4 del Canicatti Santo Privitera uno dei migliori in campo della formazione bianco-rossa Privitera c'è il colpo di testa di Gueye ma non va rimessa dal fondo che sarà affidata al portiere pacecoto Giorgio Pizzolato Giorgio Pizzolato è un portiere comunque di enorme esperienza conosciuto anche nel girone B di eccellenza siciliana viene comunque da ben tre stagioni consecutive con la divisa del Brindisi in eccellenza pugliese battuto rimessa dal fondo da Pizzolato ora Caternicchia spazza Rallo spazza c'è l'intervento del numero 6 pettinato allora cerca di andarsene tedesco c'è l'intervento di Azzara ancora Canicatti che cerca di impostare un'azione in offensiva ma c'è Rallo che spazza anche lui Bulades che subisce fallo calcio di punizione per il Mazzara fallo è stato di Filippo Caternicchia battuto già i calci di punizione da Zerillo Ferraù Lombardo Lombardo apre a cercare Bulades ma c'è stato intervento di Caternicchia allora Ferraù Diop stoppa male allora Bulades pallone è uscito rimessa laterale per il Canicatti ci sono alcuni errori di disimpegno da parte dei canarini e il Canicatti sta avendo da questo punto di vista un po' di vita facile difensivamente per il momento il Mazzara si è comportato abbastanza bene Rallo spazza rimessa laterale ancora per il Canicatti Rallo che poi è un classe 2000 la scorsa stagione aveva iniziato in serie D con la divisa del Dattilo e poi è passato alla San Cataldese con la quale ha vinto il campionato quindi anche lui di fatto è un campione uscente intanto siamo nella metà campo del Mazzara c'è rimessa laterale in zona avanzatissima da parte di Santo Privitera battuta in questo momento pizzolato con le mani blocca pizzolato cerca subito però di dare il pallone a Elam Rawi che tiene il pallone in campo vediamo attenzione perché sono rimasti a terra pizzolato e Raimondi vediamo infatti Elam Rawi ha messo il pallone in fallo laterale pizzolato si è già alzato Raimondi viene aiutato in questo momento proprio dal portiere Pacecoto vedremo ci dovrebbe essere rimessa laterale per il Canica T è pronto Tedesco pallone viene dato a Privitera che restituisce al Mazzara con un po' di fair play pizzolato Rallo Rallo lungo a cercare Daidola però c'è il vecchio Raimondi che non si fa sorprendere Elam Rawi apre a cercare Romito Bulades viene fermato allora interviene Daidola poi spazza ancora Raimondi ma è rimasto a terra Pietro Morana che si rialza in questo momento calcio di punizione ancora per la formazione ospite siamo nel corso del quarantaduesimo del primo tempo e il risultato è fermo sulle reti bianche Raimondi Santo Privitera il pallone lungo per Benny Raci fermato da Zerillo rimessa laterale per il Mazzara buono l'esordio in campionato comunque di Zerillo ha dimostrato di essere stato cresciuto bene dal calcio Sicilia dal torno del calcio Sicilia è una garanzia per i giovani siciliani vediamo ancora Guayet che sbaglia l'apertura per Azzara la rimessa laterale è per il Mazzara Genesio Elamraoui Ferraú Daidola Daidola cerca un passaggio lungo per Elamraoui non era sbagliata come pensata forse deve essere leggermente più corta Arusha pallone fra le mani con i piedi cerca di attaccare immediatamente da Zara poi il pallone comodamente da Giorgio Pizzolato Rallo Ferraú Zerillo Diop attenzione interviene Iraci ma Diop in scivolata poi attenzione ancora Morana e spazza Lombardo Privitera il cross a cercare Azzara e poi Genesio copre Giorgio Pizzolato Pizzolato prende ora un po' di tempo Ferraú Ferraú cerca di dettare i tempi Diop Diop ancora lui resiste riesce a dare pallone a Ferraú non viene fischiato fallo per il Mazzara nonostante lo scontro subito da Diop lo aiuta a rialzarsi Santo Privitera per il momento è il migliore in campo della partita Santo Privitera al maggior numero di palloni toccati Privitera che è un classe 87 quindi un giocatore abbastanza esperto ora Canicattì ha battuto il calcio di punizione Privitera interviene Diop riesce a trovare poi Zerillo Ferraú Lombardo buona giocata di Lombardo Genesio cercano ora di mettere un po' di ordine in attacco ma non trovano Baje spazza Canicattì allora Lombardo di testa attenzione che c'è offside di Giovanni Daidola che però è rimasto a terra calcio di punizione quindi per la formazione bianco-rossa quando siamo nel corso del 45esimo del primo tempo vedremo se ci sarà recupero batte il Canicattì in questo momento ora Raimondi si affida a Pettinato tedesco attenzione siamo ora dalle parti di Azzara che viene fermato da Ferraú attenzione pallone verso Iraci in anticipo Rallo vediamo Baje trova Elamraui ancora lui Samuel Amraui buona giocata cerca e trova Genesio che ha rischiato troppo nella giocata Privitera Gueye siamo da Benedetto Iraci c'è un cross adesso verso Morana buona giocata di Morana ancora Morana c'è fallo per il Mazzara subito da Bulades calcio di punizione che sarà affidato probabilmente a Giorgio Pizzolato partita che non ha visto tantissime occasioni da gol sono state proprio contate queste occasioni finisce il primo tempo 0 a 0 tra Mazzara e Canicati entrambe le formazioni vanno a riposarsi sullo 0 a 0 a più tardi per la seconda parte della partita il nostro lavoro ci permette di migliorare l'ambiente un cordiale saluto da Matteo Licata la cortese collaborazione di Vincenzo Pipitone per il secondo tempo della seconda giornata di eccellenza gironea tra Mazzara e Canicati non sembrano essersi verificate delle sostituzioni la partita è ancora un risultato apertissimo tra le due formazioni c'è stato ci sono stati due cartellini gialli uno per parte Angelo Rallo per il Mazzara e Pietro Morana per il Canicati però vediamo gente riscaldarsi per il Mazzara vediamo Pulizzi Guaiana e Abbate Sembra sembra essere quasi tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo nel frattempo ci hanno segnalato che la Mazzarese era andata in vantaggio col dolce onore Marsala col gol dell'ex Mazzara Roberto Cortese è tutto pronto nella partita precedente Canicati ricordiamo ha giocato per 180 secondi contro il dolce onore Marsala visto che Marsala si era di fatto presentato con sette elementi poi diventati di fatto sei e quindi partita vinta poi a tavolino dalla formazione bianco-rossa al mancuso di paceco invece il dolce onore Marsala sta giocando una partita regolarissima e anche abbastanza combattuta ci segnalano momenti di attesa intanto per l'inizio di questo secondo tempo si aspetta che sia tutto pronto tanto c'è Elam Rawi che parla con Diop e anche l'allenatore Leonardo detto Dino Marino manca soltanto l'ok dei due assistenti di fatto momento di attesa che si sta protraendo più a lungo del previsto ricordiamo ancora una volta ai gentili telespettatori che la giornata di oggi penso sia una delle più calde delle ultime due settimane temperatura attorno ai 33 gradi centigradi mancava uno degli assistenti che si sta schierando in questo momento chiede scusa l'assistente che si è schierato in questo preciso momento si scaldano anche alcuni giocatori del Canicati tutto pronto ultime ultime raccomandazioni del direttore di gara e si parte è iniziato il secondo tempo tra Mazzara e Canicati Diop Rallo ancora Diop Diop si affida a Ferraú Rallo siamo dalle parti di Zerillo Zerillo crossa ma non trova compagni e spazza pettinato Privitera Gueye Gueye cerca e trova Caronia attenzione a tedesco ma spazza Lombardo Daidola Ferraú Diop Rallo ancora per Vincenzo Lombardo c'è colpo di testa di Caronia Diop di testa arriva Raimondi siamo dalle parti di Azzara spazza ora Rallo spazza anche Raimondi è rimessa laterale per il Mazzara Mazzara la battuta sarà affidata a Zerillo uno dei due juniors in campo del Mazzara l'altro è Baje vediamo spazza Raimondi è ancora rimessa laterale per il Mazzara vediamo non era Baje l'altro juniore semmai Diop batte la rimessa laterale ancora Zerillo battuta in questo momento Bulades di testa Baje ancora lui si affida al difensore centrale Lombardo Lombardo però ha difficoltà a gestire il pallone si affida Giorgio Pizzolato Rallo Ferraú ancora lui apre a cercare Elam Raui di testa allora Genesio Genesio che però non si capisce con Elam Raui e poi spazza Tedesco rimessa laterale in zona di attacco per il Mazzara batte Genesio Elam Raui ancora Genesio Genesio il cross verso Daidola c'è l'uscita però di Arusha Arusha subito cerca di far partire bene Irachi Irachi rallenta la sua corsa cerca un dribbling su Baje viene chiuso però da Ferraú Zerillo trova Bulades Bulades cerca di andare a sé in velocità ancora Romito Paolo Bulades Bulades contro Raimondi Bulades ancora vince un contrasto e poi Raimondi in fallo laterale ora Mazzara ha iniziato con un altro piglio Zerillo batte rimessa laterale Ferraú ancora Zerillo Baje Ferraú apre per Genesio Genesio Elam Raui attenzione a lui il tiro a giro para Arusha e ci sono solo applausi per Elam Raui buona anche comunque la parata in blocco di Arusha Clodian con i piedi Clodian Arusha troppo lungo allora c'è Lombardo che copre di testa cerca e trova Zerillo in avanti trova Daidola Bulades chiuso da Privitera ancora Privitera Privitera cerca un filtrante ma Lombardo copre ed esce Pizzolato che viene colpito da Morana va avanti per l'azione e poi interviene Tedesco batte a rimessa laterale Genesio protesta Pizzolato per la carica subita da Morana Genesio Ferraù ancora Ferraù cerca di prendere un po' di campo apre per Zerillo Zerillo si affida ancora al regista Ferraù apertura perfetta per Elam Raui cerca di difendere il pallone ce la fa Elam Raui ancora lui pressato si affida poi a Genesio e corner per il Mazzara e ora il Mazzara si riversa in avanti siamo nel corso alla fine del quinto del secondo tempo batterà il corner Samuel Amraoui c'è un fischio del direttore di gara vediamo che succede chiede ai giocatori che si stanno riscaldando di allontanarsi dalla battuta del corner Elam Raui e viene buttato giù Daidola fischio il direttore di gara vediamo se la volta buona batte Sami attenzione colpo di testa non è arrivato di Baje c'è comunque rimessa laterale in zona di attacco per il Mazzara battuto già adesso Zerillo Bulades viene anticipato dovrebbe essere Caternicchia ancora lui vediamo Iraci cerca Zara ma c'è intervento di Genesio Bulades non riesce a tenere il pallone in campo rimessa laterale ora è per i Biancorossi battuta in questo momento cerca di andarsene Morana fermato da Zerillo fallosamente direi calcio di punizione ancora per i Canicattì batterà il calcio di punizione Privitera in questo momento Vittorio Caronia in difficoltà con Baje che trova poi Daidola e poi si oppone Bulades rimessa laterale per i Canicattì Daidola protesta ritiene di essere stato fermato fallosamente intanto dovrebbe entrare in questo momento Simone Guayana del Mazzara e forse è pronto anche Abate vediamo se la sostituzione avverrà immediatamente dai movimenti di Daidola direi di sì vediamo sì sostituzione subito Guayana esce Baje entra Abate il Mazzara sostituisce il numero 20 Baje con il numero 8 Abate vediamo se ci sarà anche la sostituzione di Guayana esce Baje tre applausi comunque è stata la partita di sacrificio per lui entra il palermitano Abate esce Giovanni Daidola entra Simone Guayana il Mazzara sostituisce anche il numero 15 Giovanni Daidola con il numero 9 Simone Guayana Daidola anche lui ha compiuto una partita di sacrificio vediamo se Simone Guayana riesce a rompere la difesa del Canicati impresa non semplice entrambe le formazioni non hanno subito gol finora batte Caternicchia interviene Ferraù vediamo interviene molto bene Zerillo Diop Abate attenzione c'è l'intervento di Vittorio Caronia buona giocata di Morana calci punizione per il Canicati quindi le uniche sostituzioni finora sono del Mazzara attende un po' di tempo quindi il Canicati di fatto tatticamente non cambia niente è uscito un centrocampista per un centrocampista e un attaccante per un attaccante pronto a battere calcio di punizione Privitera quando siamo nel corso del decimo del secondo tempo attendiamo il fischio del direttore di gara Privitera Iraci e poi Pizzolato in blocco Pizzolato difficile da ingannare disturbato da Gueye Pizzolato cerca un compagno trova Bulades che si affida a Genesio subisce un duro fallo da dietro Bulades e Caronia viene ammonito immediatamente fallo era da dietro duro giallo giusto comunque due si spiegano calcio di punizione per i canarini ed è il terzo ammonito della partita due per il canicattì e uno per il mazzara calcio di punizione vedremo a chi sarà affidato uno tra Lombardo e Genesio probabilmente direttore di gara indica la posizione corretta rimane sul pallone Vincenzo Lombardo vediamo che si allontana anche Privitera Lombardo Samy Lamrawi aggancia il pallone in due tempi guadagna rimessa laterale in zona di attacco Lamrawi la rimessa laterale sarà affidata a Zerillo Zerillo non trova compagni e rimessa dal fondo per il canicattì affidata Clodiana Ruscia prende anche un po' di tempo il portiere albanese che nonostante l'età è molto esperto vediamo ancora a Ruscia con i piedi c'è Lombardo di testa trova Romito Bulades ancora Bulades con un rimpallo rimessa laterale per Mazzara battuto la Guayana poi c'è intervento di Pettinato spazza tedesco rimessa laterale in zona di attacco per il Mazzara Mazzara sta giocando meglio questo secondo tempo più passivo la rimessa laterale sarà affidata Genesio si intensifica il movimento della panchina del Canicattì Genesio il cross non trova Bulades interviene facilmente Arusha Arusha che è un portiere di statura non imponente comunque molto reattivo scelto come portiere titolare del Canicattì intanto attenzione rallo contro Guayet Guayet cerca di difendere la sfera col tacco trova i raci ancora i raci il cross Lombardo di testa allora Diop Diop un filtrante ma non trova Guayana allora Raimondi tiro da lontano non trova però lo specchio della porta rimesso al fondo per il Mazzara Guayana si è lamentato con Diop per il filtrante troppo corto batte pizzolato ma fischia il direttore di gara perché c'era un giocatore della panchina di Mazzara che è andato a raccogliere i palloni quindi sarà ribattuta la rimessa dal fondo per il Mazzara pizzolato Bulades viene anticipato da tedesco Diop rischia troppo per interviene Diop e sbaglia di nuovo per i raci Guayet chiude Rallo molto bene direi anche Rallo rischia però un po' troppo trova comunque Zerillo Zerillo in avanti Elam Rawi attenzione subisce fallo Elam Rawi e c'è un giallo pronto per Raimondi stanno aumentando gli ammoniti ora sono quattro di cui tre del canicattì ha notato quindi Raimondi sul tacquino dei cattivi batterà il calcio di punizione Angelo Rallo pronto Rallo Ferraú in avanti a cercare in velocità Elam Rawi ma interviene Raimondi allora attenzione al canicattì che può impostare un'azione offensiva Privitera attenzione verso Zara c'è l'intervento di Genesio ancora Zara e poi Genesio conquista la sfera Genesio cerca di prendere campo Ferraú ancora Ferraú Guayana ancora lui cerca Genesio ma il pallone era troppo lungo rimessa dal fondo per il canicattì ci sono problemi più che altro d'intesa tra i giocatori del Mazzara entra il numero 20 del canicattì Yezzi ed entra anche il numero 15 Biondo esce a Zara entra Yezzi innanzitutto e si confermiamo l'uscita di a Zara per Giuseppe Yezzi buona partita di a Zara ma Yezzi non è da meno esce Morana intanto ed entra Francesco Biondo il canicattì sostituisce il numero 10 a Zara con il numero 20 Yezzi e il numero 11 Morana con il numero 15 Biondo quindi due sostituzioni per parte anche qui tatticamente non dovrebbe cambiare che anche intanto si aspetta la battuta della rimessa dal fondo di Clodian Arusha che avviene in questo momento Arusha colpo di testa di Abate interviene Privitera allora è nuovo entrato Yezzi ora Lombardo interviene Pettinato Ferraù apre dalle parti di Zerillo Zerillo è l'Amraui non trova Zerillo perché c'è l'intervento di Caternicchia rimessa laterale prima Zara vediamo Zerillo decide di affidarsi a Rallo Pizzolato ancora lui con i piedi Pizzolato cerca Bulades ma c'è l'intervento di Tedesco attenzione Rischia poi Raimondi e poi Caternicchia persato dall'Amraui poi c'è l'intervento del numero 15 Biondo allora Abate Diop che subisce fallo calcio e punizione per il Mazzara Diop che finora non ha compiuto una partita eccezionale però alla fine per recuperare anche dei calci di punizione importanti il giovane 2001 Diop è stato anche molto utile si sta riscaldando intanto del Mazzara Bonanno che è un classe 2003 quindi dovrebbe entrare se entra proprio al posto di Diop e taticamente non cambierebbe comunque nulla sempre una mezzala per una mezzala intanto si sta decidendo come battere calcio e punizione c'è mezza squadra praticamente sul pallone ora si allontana qualche d'uno uno è Genesio c'è Guayana c'è Ferraù e c'è Lamraui si leva la pettorina Bonanno quindi potrebbe entrare Guayana fila Z nulla di fatto c'è qualche tifoso che rumoreggia dopo questo calcio di punizione battuta rimessa dal fondo a Ruscia si è affidato subito a Pettinato interviene di testa Lombardo Ferraù Diop Abate Bulades Guayana Abate Elamraui prova il tiro non ha trovato lo specchio della porta però Elamraui è pericoloso quando calcia vediamo c'è la sostituzione molto probabilmente si è così è pronto a entrare Ivan Bonanno ed esce Diop l'avevamo preannunciato e ci potrebbe essere questa sostituzione ed è puntualmente avvenuta applausi comunque per Diop entra in classe 2003 Bonanno mezzala non alta di statura ma molto rapida e dotata di tecnica individuale non indifferente è la terza sostituzione del Mazzara batte Arusha di testa abate spazza tedesco rallo di testa Bonanno che cerca subito Elamraui ma non lo trova rimessa laterale quindi per il Canicattì batte Caternicchia vediamo ancora il pallone reggistito da Privitera verso Iraci ma poi c'è l'intervento di Bulades rimessa laterale in zona di attacco per il Canicattì Vittorio Caronia vediamo attenzione c'è poi l'intervento di Zerillo Elamraui di faccia poi Bonanno Ferraù Abate Genesio Genesio apre molto bene per Elamraui ancora Samiel Amraui attenzione c'era un contrasto con Guayana non ravvisato dalla ferma arbitraria allora attenzione il contropiede di Yezzi Yezzi buona giocata ancora Yezzi e poi spazza Ferraù allora Raimondi Caternicchia no scusate e Biondo rimessa laterale per il Mazzara vediamo c'è rimessa laterale battuta a Zerillo Rallo Ferraù Genesio Genesio cerca di prendere un po' di campo in avanti a cercare Romito Bulades attenzione a Bulades Bulades cerca ora di difendere ancora palla cerca un dribbling cerca di andarsene e non riesce troppo bravo tedesco in questo caso buona ancora tedesco e ha dribblato anche Abate ancora tedesco cosa sta facendo trova poi Biondo Jezzi ancora Jezzi a cercare Caternicchia il cross non riesce a intervenire i raci allora Abate cerca subito di prendere campo Abate forse tiene un po' troppo palla rischia troppo guadagna calcio di punizione non è d'accordo Privitera batte Abate Ferraù Abate ancora Ferraù Bonanno si affida a Rallo passaggio forse un po' impreciso Zerillo Ferraù e Lamraui non si capisce con Ferraù allora Gueye può impostare un'azione offensiva Gueye cerca il dribbling bella scivolata di Lombardo allora Abate ora è un tutti contro tutti è Lamraui Abate Lombardo ancora per Abate si riaffida Genesio Genesio Rallo Ferraù Filtrante che non trova Bonanno allora c'è l'intervento del Canigatti Gueye cerca di aprire per Iezzi Iezzi ancora lui cerca di dare Zerillo il cross per Iraci un po' fuori misura guadagna calcio di punizione Benedetto Iraci ma è rimasto a terra un giocatore mazzarese dovrebbe essere Genesio è così calcio di punizione per il Canigatti c'è anche un po' di confusione in questo momento Privitera e Bulades che se ne promettono attenzione che si avvicina anche Abate e Caronia e gli animi si riscaldano interviene anche Fettinato su Bulades e la partita si è accesa anche Abate dice la sua Abate sembra avercela con Privitera e anche le due panchine ora cominciano a dirsele attenzione perché il direttore di gara deve prendere in mano la situazione ha monito Iraci intanto e anche i due allenatori se le dicono la terna arbitraria deve assolutamente riprendere in mano la situazione basta poco per rovinare una partita intanto è pronto il calcio di punizione per il Canicatti pronto Santo Privitera siamo nel corso del 27esimo anzi la fine del 27esimo del secondo tempo batte Privitera colpo di testa di Abate che allontana rimessa laterale ancora per il Canicatti si sta riscaldando intanto per Mazzara Calogero Melia intanto c'è anche un cambio per il Canicatti esce Vittorio Caronia ed entra Walter Malluzzo il Canicatti sostituisce il numero 8 Caronia con il numero 18 Malluzzo un altro cambio quindi per il Canicatti dovrebbe essere il terzo ci confermano dalla regia che è il terzo cambio del Canicatti batte il Canicatti gueyè di testa c'è l'intervento di Bulades spazza pettinato ora spazza Lombardo vediamo Guayana contro due Ferraù non trova Bonanno c'è comunque rimessa laterale per il Mazzara batte Zerillo Guayana cerca di prolungare per Bulades non riesce Rallo c'è Zerillo ma Gueyè conquista la sfera ancora Gueyè Gueyè ancora lui il tiro pizzolato spizza con le mani e poi spazza Genesio rimessa laterale per il Canicatti che ora cerca di attaccare vuole portare a casa la partita Privitera Tedesco Tedesco attenzione ancora Benny Raci il cross di Tedesco spazza Lombardo rischia però Privitera verso i Raci Genesio e Lamrawi cambia fascia ancora Lamrawi spazza Genesio di testa pettinato ora Abate cerca di prendere campo e attenzione Tedesco su Abate per il direttore di gara non era fallo ma l'entrata era molto molto dubbia batte la rimessa laterale Capitan Genesio un arbitraggio molto britannico oggi Ferraù verso Zerillo Zerillo a cercare Bulades lo trova Bulades verso Bonanno buona giocata di Bonanno ma poi interviene un giocatore Canicatti Lombardo di testa alza un campanile poi Jezzi ancora lui dribbla molto bene Bonanno poi Bonanno conquista la sfera e non riesce a trovare Ferraù allora Privitera apre verso Benny Raci c'è l'intervento di Genesio Genesio c'è spazza Genesio la rimessa laterale e del Mazzara i raci non è d'accordo vediamo Genesio è claudicante tanto si sta riscaldando anche Etman Abdeluaed è stata battuta rimessa la rimessa laterale attenzione i raci di tacco cerca e trova Malluzzo i raci contrasta molto bene Abate ora Ferraù trova Bonanno Rallo con i piedi ma non trova nessuno se non Biondo Yezzi Bonanno interviene molto bene bello il passaggio per Bulades ora Bulades può cercare di andarsene Guayana tocco di ritorno per Bulades che apre in maniera scorretta non si capiva se era per Abate o per Elam Rawi batte tedesco Privitera ancora tedesco Privitera Malluzzo attenzione ancora verso i raci i raci cerca di andarsene Guayana fermato fallosamente da Lombardo calci di punizione per il Canicattì è rimasto a terra Guayè e vediamo se entrano i sanitari del del Canicattì si rialza Guayè è pronto a entrare Etman Abdelwahed sembra quasi pronto dopo il calcio di punizione probabilmente entra il mazzarese di origine tunisina Etman Abdelwahed che onestamente per semplicità nostra chiameremo Etman batte Privitera e calci di punizione c'è un colpo di testa di Caternicchia poi Jezzi prestato da Bonanno buone cross e poi pettinato non riesce a calciare in porta con decisione pizzolato a vita facile è rimasto a terra pettinato intanto è pronto Etman potrebbe esserci il cambio proprio in questo momento entra Etman esce Bulades e anche qui tatticamente cambia niente numero 7 Romito Bulades con il numero 16 Etman Abdelwahed Bulades che ha compiuto una partita anche lui di tanto sacrificio siamo nel corso del alla fine 34esimo del secondo tempo è entrato l'esterno di origine mazzarese di origine tunisina Etman e vediamo ora Rallo che ha già ricevuto il pallone da pizzolato Rallo cerca Etman che cerca di andarsi in velocità buona giocata di Etman che non riesce a tenere pallone in campo non era Etman scusate era Bulades scusate ci segnano dalla regia che non era Bulades appena uscito ma era Guayana pronto a battere la rimessa dal fondo Claudian Arruscia Arruscia di testa Guayet poi Lombardo arriva Etman Bonanno Ferraù Ferraù a cercare Guayana ma c'è l'intervento di Raimondi e calci di punizione proprio per Canicattì battuto il calci di punizione già da Privitera attenzione al Canicattì che cerca di riprendere il centrocampo in mano pettinato ma c'è l'intervento di Elam Rawi non riesce a tenere il pallone in campo batte la rimessa laterale Giuseppe Tedesco Tedesco pettinato pettinato cercare Benedetto Iraci anticipato da Genesio e poi corner per il Canicattì e corner per il Canicattì e corner lo batterà il solito santo Privitera il risultato è ancora ancorato sullo 0-0 spazza Etman poi il tiro di Malluzzo scusate sembrava un gol incredibile perché il tiro era dritto per dritto di poco alta comunque c'è corner ancora per il Canicattì bello il tiro di Malluzzo giovane interessante classe 99 non è più juniores peccato battuto il corner attenzione il pallone rimane lì c'è pizzolato e c'è calcio di punizione per il Mazzara ma che rischio qui per la formazione canarina il pallone è rimasto pericolosamente vicino alla linea si è un frapposti sia pizzolato che rallo batte pizzolato calcio di punizione calcio di punizione battuta in questo momento arriva Raimondi Ferrau e Lamraoui vinta di corpo cerca di andarsene ancora Lamraoui vince un contrasto per dietro di gara e fallo proteste del pubblico batte pettinato il calcio di punizione subito per Yezzi c'è Zerillo su di lui interviene Rallo e Lamraoui poi Guaiana ancora lui cerca di andarsene Simone Guaiana Guaiana chiuso da Caternicchia molto bene ancora il Canicatì in avanti Rallo spazza e rimessa laterale per la formazione ospite siamo nel corso del trentanovesimo del secondo tempo e ancora il pareggio è a reti bianche batte la rimessa il Canicatì attenzione allora Biondo c'è intervento comunque di Zerillo e c'è corner per il Canicatì ora il Canicatì cerca di impostare un forcing quindi tutti nel box del Mazzara per cercare di portarsi in vantaggio a terra Raimondi c'è comunque fallo in attacco del Canicatì calcio di punizione per il Mazzara calcio di punizione che sarà affidato a Pizzolato Pizzolato Abate di testa poi interviene Tedesco Lombardo di testa interviene Privitera trova i raci di tacco che trova Gueye Gueye che cerca un tunnel su Genesio non riesce ancora Genesio che guadagna calcio di punizione non è d'accordo Gueye batte Valerio Genesio siamo vicini agli sgoccioli della partita siamo all'inizio del 41esimo pronto Pizzolato ma c'è un cambio prima vediamo chi esce chi entra esce Gueye esce sicuramente Gueye dovebbe entrare Silvestre Tripoli confermiamo esce Gueye entra Tripoli c'è un po' di difficoltà nel cambio che comunque viene effettuato entra quindi classe 2001 Silvestre Tripoli batte calcio di punizione Giorgio Pizzolato Genesio cerca di ridestare i compagni Abate Ferraù vediamo se trova Guaiana nulla da fare ma c'è comunque rimessa laterale per il Mazzara batterà Valerio Genesio 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 Guaiana fallo di Guaiana che sposta di forza pettinato calcio di punizione ancora per i biancorossi e sarà affidato all'albanese Clodia Arusha Arusha batte in questo momento Lombardo vediamo ancora per Guaiana stoppa il pallone ma non riesce a trovare nessun compagno Privitera Tripoli viene anticipato da Rallo Genesio scusate Guaiana che commette fallo calcio di punizione per il Canicattì Privitera subito a cercare i raci i raci c'è l'intervento di Genesio e poi Lombardo che subisce fallo calcio di punizione per il Mazzara e ci sono proteste del pubblico batte il calcio di punizione Giorgio Pizzolato 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 interviene Biondo ci è rimessa la trenza di attacco per il Mazzara vediamo se il Mazzara riesce a cambiare le sorti di questa partita batte Zerillo e Lamraui verso Zerillo e Cross c'è l'intervento però di Pettinato e poi c'è fallo di Ferraú calcio di punizione per il Canicattì battuto in tante calcio di punizione c'è Privitera apre verso Ben Miraci che aggancia contrastato da Genese pallone arriva allora a Malluzzo Privitera Genese di Testa si affida a Pizzolato pressato da Tripoli scherzosamente vediamo Pizzolato 5 minuti di recupero per il direttore di gara quindi si giocherà fino al 95esimo Lombardo non trova nessuno molto sterile in attacco in Mazzara oggi vediamo anche il Canicattì non ha fatto tanto meglio due squadre che non volevano rischiare di perdere però c'è il corner per il Canicattì a questo punto del campionato il pareggio potrebbe stare bene ad entrambi effettivamente forse sta meno bene al Mazzara attenzione c'è stato Rischio Pizzolato è riuscito a intervenire attenzione ancora Iezzi e poi Privitera che non trova anzi rimessa laterale addirittura vediamo vediamo c'è rimessa la tre già battuta dal Canicattì Iraci e l'Amrawi persato da Iezzi Iezzi conquista la sfera buona giocata di Iezzi e l'Amrawi però interviene attenzione l'Amrawi guadagna calcio di punizione è rimasto a terra Genesio lo aiuta Lombardo crampi per lui e c'è Pizzolato anche che sta confabulando con uno degli assistenti Genesio si rialza non senza difficoltà Pizzolato può battere il calcio di punizione vediamo Pizzolato cercare Guayana ma c'è intervento della difesa del Canicattì vediamo Privitera c'è Fallo il Fallo è in favore del Canicattì ma Samuel Amrawi è rimasto fermo non capiamo questa scelta del direttore di gara no palla contesa addirittura e pallone però rimane al Canicattì Raimondi Pettinato Pettinato Trevento di Lombardo Abate spazza Malluzzo Genesio di Testa trova Ferraù Ferraù per Elamrawi buona giocata di Elamrawi Elamrawi che ha subito fallo era stato preso per la maglietta ci stava munizione il direttore di gara però ha optato per un semplice fischio Elamrawi Abdelahed che non si capisce né con Guayana né con Genesio attenzione Iraci ha occhio a Tripoli ma c'è l'intervento di Rallo Genesio Etman c'è l'intervento di Tedesco Ferraù Ferraù Buonanno cerca di andarsene Buonanno in velocità ma si ferma subisce fallo preso per la maglietta anche qui ci stava il giallo l'arbitro di nuovo opta per un semplice calcio di punizione non capiamo questa direzione del direttore di gara negli ultimi minuti regolamento alla mano la trattenuta per la maglia e cartellino giallo arbitraggio da parte del direttore di gara secondo secondo noi non sufficiente onestamente batte Ferraù c'è l'intervento di Lombardo in rovesciata poi Rallo di tacco e c'è Malluzzo che spazza Zerillo cerca un tiro che però arriva troppo comoda dalle parti di Clodia Naruscia Privitera a cercare Yezzi attenzione Yezzi è stato più veloce di Zerillo poi spazza Rallo Ferraù rischia troppo il pallone e allora arriva la Caternicchia che dribbla Elam Raui Raimondi Pettinato Tedesco la palla era fuori e ci è rimessa laterale per il Mazzara attenzione attenzione perché reazione troppo dura della panchina del Canigatti anche qui ci stava un intervento del direttore di gara intanto è rimasto a terra un giocatore del Mazzara dovrebbe essere Elam Raui fino a un quindici minuti fa il direttore di gara aveva arbitrato abbastanza bene gli ultimi quindici minuti sono stati non diciamo disastrosi perché forse il giudizio è troppo forte ma comunque da rivedere tanti cartellini gialli non dati e qui si rischia anche di rovinare delle partite per fortuna questa partita si sta mantenendo calma però queste partite basta niente che si possono rovinare Abate interviene Pettinato Ferraù cade attenzione poi c'è Genesio Bonanno Ferraù Genesio Guaiana finisce la partita 0 a 0 tra Mazzara e Canicatti partita avara di soddisfazioni e di azioni gol le due squadre hanno preferito non farsi troppo male alla fine finita finita l'agonismo finita l'agonismo le due formazioni si chiariscono così come si fa nello sport 0 a 0 tra le due formazioni è tutto qui dallo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo 0 a 0 tra i canarini e il Canicatti alla prossima dallo stadio Mazzarese del Nino Vaccara c'è di Mazzara di Mazzara di Mazzara Grazie.